. Charlie's Angels, il rebot, e nel cast, in Forze, c'è Kristen Stewart. Ci erano mancate, le Charlie's Angels. E probabilmente ci mancheranno ancora fino al 2019, anno di uscita del rebot della Sony ad opera della regista Elizabeth Banks. . Che cosa ci possiamo aspettare dalla nuova pellicola? Donne forti, eterogenei, indipendenti e potenzialmente letali, ma con una rivisitazione moderna che solleva le aspettative. Arrivano le Charlie's Angels. . Tra le papabilissime per entrare nel cast di protagoniste al femminile del rebot di Charlie's Angels ci sono nomi di un certo livello, due su tutti spontaneo, più forti che mai, e muovono le discussioni e le opinioni dei fan di vecchia data del franchise. . Il primo è quello di Kristen Stewart, modella e attrice tenebrosa, la leggendaria Bella Swan del ciclo di Viget. . La seconda è la caldissima, scoppiettante Lupita Nyong'o, e secondo il barietti non c'è ancora niente di confermato, ma sembra che le due potrebbero davvero tenere la parte. . . La sorpresa più grande sarebbe quella della Stewart, che non si è quasi più dedicata al cinema d'intrattenimento dai tempi del vampiro metro sessuale e di Biancaneve e Il Cacciatore, nel 2012. . . Lo show originale degli anni Ottanta era basato su un trio di detective al femminile guidato dal misterioso Charlie Townsend, in ogni episodio della serie le ragazze affrontavano un caso diverso, mettendosi alla prova e completandosi attraverso le loro capacità. . 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